buona serata siamo arrivati al quarto e ultimo appuntamento di Freghi Sveglio dedicato a Marco Massignan ciao Marco buonasera ciao Fabio e una buonasera a tutti gli ascoltatori che invitiamo poi a scrivere le loro domande in chat perché come tradizione nella parte finale della trasmissione leggeremo alcune vostre domande e per questo ultimo appuntamento avete visto il titolo visione sistemica e legge di attrazione ecco ormai sappiamo che la visione sistemica è alla base del lavoro delle costellazioni familiari che il tuo principale campo di intervento da una ventina d'anni è creato insieme a tua moglie la maggiore scuola italiana di questo settore allora se ci puoi un po parlare di questa visione sistemica delle sue origini le sue applicazioni nel modo in cui essa rappresenta forse uno dei capisaldi del nuovo mondo che dobbiamo necessariamente creare in opposizione a questa distopia eh al grande reset che l'elite globalista avrebbe conservo per noi di cui ieri abbiamo avuto anche una conferma sì eh in questa prima parte rispondendo appunto alla tua domanda vorrei proprio parlare di ehm della visione sistemica come è nata nell'ambito scientifico nell'ultimo secolo grosso modo forse un pochino di più e poi magari con te affronteremo mh Fabio altre mh parti che mi stanno più a cuore che vengono invece da un passato più remoto e dalla visione sistemica applicata in un ambito spirituale che è quello in particolare dei popoli tribali dei popoli inattivi del mondo a livello scientifico mh quella che si chiama teoria generale dei sistemi o in origine addirittura era teoria del sistema generale è stata promulgata da uno studioso Ludwig von Bertalanfi eh che appunto ha denominato ha fatto ha promulgato questa denominazione ed è una una teoria dei sistemi chiamiamola così viene applicata in molti ambiti scientifici tra cui la biologia la cibernetica e la robotica eh si basa grosso modo sull'osservazione delle della realtà ehm da un punto di vista appunto sistemico come insieme eh la realtà fatta di un insieme una rete di eh di realtà diversi di sistemi appunto che hanno le loro leggi e funzionano appunto secondo determinate leggi e come ripeto può essere la teoria dei sistemi ed è stata tuttora applicata con successo in numerosi campi della scientifici e del sapere umano ehm poi mh nel corso del tempo eh la teoria dei sistemi di Bombertalanfi è stata applicata anche in psicologia eh infatti eh parliamo oggi di psicologia sistemica quindi una psicologia che non più eh ormai degli anni almeno agli anni sessanta forse un pochettino prima che ehm una parte della psicologia si è accorta che l'essere umano non è un'isola a sé stante un individuo così eh isolato dagli altri ma fa parte di una rete di relazioni e per cui hm vi sono state scuole importanti a livello di psicoterapia e psicologia mi piace ad esempio ricordare la scuola di Palo Alto in California eh che ha si è intersecata così ha lavorato anche con eh nomi importanti dell'epoca che che ancora oggi hanno una loro vitalità come Gregory Bateson e la sua teoria del doppio legame eh piuttosto che ehm la teoria dei eh tipi logici di Bertrand Russell e il famoso Bertrand Russell e e quindi mh approviamo poi in Italia in Europa soprattutto in Italia a Milano eh tra gli anni anni sessanta e settanta mh nell'ambito psicoterapeutico ehm si è avuta la la nota scuola di Milano cosiddetta che appunto ha fatto tesoro degli insegnamenti della scuola di Palo Alto sempre stiamo parlando di teoria di sistemi applicata alla psicologia alla psicoterapia sempre più ehm osservando appunto eh il cliente il paziente l'essere umano come facente parte di una rete di eh di relazioni di rapporti e non più come eh si faceva e si fa ancora ahimè nella psicologia dominante quella che in gran parte viene insegnata all'università in cui si considera una persona come un'isola a sé stante ehm e si ignora la portata reale di quello che sono ad esempio i traumi intergenerazionali cioè le le tematiche l'energia soprattutto eh i pensieri le emozioni e le parti di destino che ci vengono dal passato quindi dai nostri antenati e quindi in questa visione appunto dominante della psicologia poi si dà molto poco peso all'ambiente circostante soprattutto all'ambito familiare in cui ehm appunto l'essere umano eh viene invece visto nella psicologia sistemica come facente parte di una di una un sistema appunto un sistema familiare una famiglia d'origine una famiglia attuale e nell'ambito così del lavoro delle costellazioni e di altri eh lavori emergenti eh invece ancor più si dà eh importanza non perché si sia deciso che si dare importanza ma perché ci si è accorti che ha un peso enormemente sottovalutato proprio il fatto che eh veniamo da reti di relazioni del passato dai nostri antenati dai sistemi familiari da cui il nostro corpo nasce e quindi è stato fortemente condizionato e influenzato e così nel tempo sono nati vari approcci terapeutici alcuni riconosciuti a livello scientifico altri no ancora no eh come ad esempio la psicogeneologia eh la terapia familiare e da ultimo eh le potremmo citare veramente tantissimi eh esempi eh da ultimo le costellazioni familiari che sono nate dall'opera soprattutto di eh uno psicoterapeuta tedesco che è scomparso qualche anno fa Bert Hellinger e che ha unito e ha eh molti di questi mh campi di intervento terapeutico che abbiamo citato e altri ancora ad esempio la scultura familiare il lavoro di Virginia Satir il lavoro sulle lealtà invisibili dell'ungherese Borger Meninaghi eh molti altri approcci creando quello eh che si chiamano costellazioni familiari in italiano eh o family constellations in inglese mentre invece in tedesco eh conserva l'addizione insomma il nome di questo tipo approccio terapeutico mh è più simile al al vero cioè rappresentazioni sistemiche proprio perché nelle costellazioni familiari appunto si mettono in scena delle rappresentazioni con i partecipanti stiamo parlando di una teoria a piedi gruppo e eh come una sorta di di spettacolo che non è uno spettacolo ovviamente ma un spettacolo teatrale senza copione in cui i partecipanti detti rappresentanti hanno accesso per via della risonanza ehm che c'è tra tutti i sistemi viventi hanno accesso alle emozioni ai pensieri ai comportamenti di coloro che stanno rappresentando in quel momento per cui ehm queste sono un po' le ehm origini eh nei trecenti della eh visione sistemica cioè del considerare l'essere umano come ripeto ma è importante appunto ribadirlo non un'isola a sé stante un individuo scollegato dagli altri ma facente parte di una rete di relazioni e al tempo stesso l'essere umano è un sistema egli stesso se ad esempio consideriamo anche solo il nostro corpo fisico il nostro corpo fisico è fatto di tante parti abbiamo diversi organi interni ciascuno con la sua funzione ciascuno con il suo posto diversi sistemi diversi apparati il sistema nervoso l'apparato digerente l'apparato endocrino ehm vari altri organi che collaborano tra di loro quindi noi ognuno di noi ogni individuo è un sistema a sé stante e al tempo stesso e quindi quindi deve curarsi delle relazioni eh all'interno di sé quindi che il cuore funzioni bene con il fegato che il fegato funzioni bene con l'apparato digerente i polmoni i cervelli e via così eh e in effetti tutto in natura come vedremo eh anche più avanti nel corso della serata si basa proprio su questo equilibrio e su questa collaborazione tra le diverse parti di un sistema quindi così come un sistema umano un essere umano è fatto di tante parti diverse che vanno a comporre un sistema il suo corpo potremmo parlare come abbiamo fatto anche nelle puntate precedenti dei corpi sottili possiamo parlare dell'anima dello spirito possiamo parlare di delle nostre parti in una visione olistica dell'essere umano al tempo stesso l'essere umano è inserito in una rete di relazioni eh proprio come ehm in particolare Bateson che ho parlato prima della sua teoria del doppio legame che eh emerge potentemente nel mondo delle costellazioni nel lavoro delle costellazioni eh egli stesso eh credo sia ad attribuire a lui la frase che tutto è comunicazione in effetti ehm è proprio così nel senso che tutto è comunicazione proprio perché tutto è inserito in rete reti di rapporti all'infinito eh per cui abbiamo una una nostra famiglia di origine una famiglia attuale le relazioni sul lavoro le relazioni con i nostri amici le relazioni con gli oggetti le relazioni con l'ambiente esterno le relazioni se possiamo espandere questa visione sistemica all'infinito e ci accorgiamo a un certo punto che eh siamo inseriti in rete cosmica di relazioni in e del resto proprio la nascita di internet della rete eh informatica che ormai ehm ricopre l'intero globo e che ci permette di comunicare anche in questo momento este essa stessa espressione proprio di quella che non è soltanto una teoria sistemica ma è un modo di vedere la realtà che tra l'altro di cui abbiamo molto bisogno in ultima analisi come eh citavi prima il grande reset proprio perché il grande reset come è stato partorito delle menti malate di alcuni personaggi poco raccomandabili che eh ahimè hanno molti mezzi eh tecnologici al al momento eh vuole proprio eh schiacciare la grande parte della popolazione e imporre determinate scelte loro dall'alto sul resto del sistema mentre invece mh il nuovo che avanza appunto la parte più sana degli esseri umani ha compreso e sta sempre più capendo e stiamo sempre più crescendo compreso il fatto che eh il futuro dell'umanità è attraverso la collaborazione e non certo eh una visione gerarchica che appartiene al passato ecco proprio sempre in tema eh di eh visione sistemica ecco si ispira al modo di pensare di vivere delle popolazioni tribali e in che modo essa trae origine da quel modo di vivere che molti chiamano sciamanismo sì questo è po eh questa domanda che mi fai eh mi rimanda un po' alla mia storia personale il mio incontro con le costellazioni è avvenuto nel duemila eh due eh con un allora le costellazioni come abbiamo detto sono nate nell'ambito del Germani Germania e Austria e Svizzera tedesca eh quindi all'inizio una ventina di anni fa ancora erano sconosciute in Italia e sono stati alcuni terapeuti tedeschi soprattutto a portarle nel nostro paese e poi a diffonderle nel mondo. A quell'epoca appunto nel duemila e due ho incontrato per la prima volta le costellazioni venendo eh da eh una vita intera dedicata proprio alle popolazioni invece native americane soprattutto all'incontro che i popoli tribali ho organizzato per molti anni eh incontri, eventi, spettacoli in cui eh facevo venire danzatori, uomini medicina, liberi spirituali dal Canada e dagli Stati Uniti soprattutto in Italia e in altre parti d'Europa. Per cui forte di quella esperienza ho incontrato le costellazioni e ho riconosciuto nel mondo delle costellazioni in questo approccio terapeutico molte delle cose che eh avevo imparato e che stavo imparando con i leader spirituali e gli uomini medicina nativi americani. Eh e ho riconosciuto a mio proprio l'aspetto, il potenziale spirituale delle costellazioni non soltanto terapeutico ma proprio di una terapia che non considera l'essere umano soltanto fatto di carne, soltanto nei suoi aspetti misurabili e materiali o al massimo emozionali eh da cui è nata ad esempio la psicosomatica eccetera ma anche nei suoi pensieri quindi e anche oltre quindi le parti dell'essere umano che eh sono eh che noi siamo soliti chiamare anima eh siamo soliti chiamare spirito eh e che danno una visione appunto olistica del essere umano quindi a trecentosessanta gradi e una visione olistica del mondo ehm attraverso il mondo attraverso lo strumento della rappresentazione sistemica cioè le costellazioni familiari eh a mio avviso abbiamo dei vantaggi enormi che altri approcci come ad esempio la psicogeneologia o la terapia psicologica sistemica eh non 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 possono vantare e non possono offrire ai partecipanti in particolare come ripeto tutte le volte ma eh d'altra parte è così è molto importante fare esperienza delle cose piuttosto che capirle l'abbiamo visto è stato il titolo anche di un intervento precedente eh per cui se rimaniamo a un livello psicologico seppur sistemico io posso capire le reti di relazioni in cui sono inserito posso capire le dinamiche eh che mi condizionano a che magari vengono dal rapporto con mia madre con mio padre eh tra mia madre mio padre quei nonni gli altri componenti del sistema familiare ma mi mancherà il farne esperienza attraverso il corpo quindi attraverso un approccio somatico quello che invece offrono proprio le costellazioni familiari che come abbiamo detto si esplicano attraverso mettere in scena dei rappresentanti una persona quello che noi chiamiamo il protagonista un cliente mette in scena sotto la guida e la direzione di di chi facilita del conduttore del seminario mette in scena dei rappresentanti scegliendoli tra il pubblico tra le persone presenti e a rappresentare via via il proprio padre la propria madre se stesso altri componenti del sistema familiare oppure parti di sé per esempio posso mettere in scena il mio corpo fisico la mia anima il mio sistema nervoso eh un organo interno eccetera eccetera a seconda di quello che si l'obiettivo che si vuole raggiungere e quindi poi il così il protagonista si siede accanto il conduttore osserva e osserva la rappresentazione di panarsi svolgersi ehm con anche delle frasi che magari il conduttore mh invita i rappresentanti a dire o i rappresentanti cominciano a spostarsi eh sul nello spazio a disposizione seguendo quelli che vengono detti eh movimenti dell'anima in questo modo si ha una specie di meditazione tridimensionale quindi io metto in scena delle parti di me metto in scena dei componenti della mia famiglia e osservo la scena dal di fuori proprio come avviene nella meditazione in cui osservo i miei pensieri osservo i miei processi mentali osservo le emozioni e quindi gradualmente mi disidentifico da esse proprio per il fatto che le sto eh cominciando ad osservare in una relazione soggetto oggetto e non sono più immerso e totalmente identificato assorbito unito con esse questo eh io appunto eh come dicevo prima ho citato i nativi americani con cui ho lavorato per oltre vent'anni e ancora sono in contatto e ho scritto parecchi libri ho tradotto una ventina di libri eh su questi argomenti ho diretto una collana di libri ho fatto tantissime attività proprio con i nativi americani e forte di questa esperienza ho incontrato le costellazioni e ho riconosciuto a mio avviso come le costellazioni familiari fossero una specie di ritorno della ritualità dei nativi e di un approccio olistico appunto sistemico eh nella nostra società attuale in cui manca proprio una visione del sacro manca manca una visione del sacro in generale perché è stato fatto di tutto per estinguerla per reciderla per distruggerla e inoltre manca anche un modo di eh esprimere il sacro che non sia legato alle così a ripetere pedissequamente i testi scritti da altri o delle dei valori eh religiosi che appunto ehm sono promulgati dalle religioni eh organizzate e mh quindi nella visione tribale nella visione dei popoli tribali stiamo parlando dei popoli tribali contemporanei che ancora pochi vivono secondo il loro modo di vita tradizionale ma stiamo parlando anche dei nostri antenati perché mh prima dell'impero romano e ancora per molti secoli eh durante il medioevo noi europei siamo stati eh organizzati socialmente in tribù e in in comunità mh appunto di carattere tribale quindi comunità in cui non vi era qualcosa come possiamo non vi erano tasse non vi erano eh monete eh da scambiarsi eh per regolare il così la il commercio non vi erano eh carceri non vi erano giudici non vi erano tante delle cose che contraddistinguono le società eh più sviluppate per come si suol dire questo non vuol dire che si debba tornare a vivere ehm come si viveva tremila anni fa ma sicuramente come vediamo dagli sviluppi eh di questi mesi della nostra vita è sempre più necessario trovare già ritrovarsi tra di noi le persone che come noi rappresentano a mio a mio avviso l'avanguardia culturale l'avanguardia intellettuale l'avanguardia coscienziale del del mondo occidentale e che si stanno sempre più risvegliando alla realtà eh di quello che eh appunto della pressione che abbiamo addosso che ci costringe a crescere eh rappresentano proprio questa avanguardia che ha bisogno eh di eh fare tesoro degli insegnamenti a mio avviso di popoli tribali soprattutto in materia di collaborazione e in materia del mh riguardo al fatto che eh qualsiasi mh rappresentante un popolo tribale vede la realtà in maniera molto diversa da quella eh nel modo in cui siamo stati abituati noi occidentali a vederla per cui non attraverso la collaborazione ma noi siamo stati abituati a competere tra di noi a schiacciare l'altro a conquistare l'altro a considerare la terra i suoi non come un essere vivente ma eh un luogo da depredare infatti parliamo freddamente di ambiente anche il movimento ambientalista così eh oramai eh superato eh nella sua visione materialista ha bisogno di vedere eh la terra non la natura ma la terra come un essere vivente per cui a mio avviso eh lo sciamanismo come si possiamo definirlo in questo modo io ho scritto un libro proprio per definire anche questa parola e che cosa intendo lo sciamanismo e la la spiritualità dei popoli tribali o ancor più il modo di vedere il mondo e se stessi dei popoli tribali contiene tanti insegnamenti che sono molto molto importanti proprio non solo per la nostra sopravvivenza come esseri umani ma anche per creare una società più giusta eh che vada oltre che si possa dare una risposta agli incubi eh che ci stanno propinando in questo periodo. Ecco magari possiamo anche elencare no questi aspetti che rendono lo sciamanismo eh necessario no non solo per sopravvivere ma proprio per vivere meglio ecco quali sono questi aspetti e quali invece hanno eliminati perché comunque fanno parte del passato e non andrebbero bene per questo questa epoca moderna. Ma io fario partirei da questa seconda parte della tua domanda cioè le parti che non vanno bene che non sono non sono adatte insomma alla nostra epoca perché appunto molte persone magari pensano eh vabbè questo si sta proponendo di tornare a vivere come all'età della pietra eccetera ma non è possibile infatti non è possibile assolutamente e non è questo il mio intendimento. Eh sicuramente noi viviamo in un mondo che è radicalmente cambiato da quello in cui vivevano i nostri antenati tribali e anche da quello in cui vivono per esempio gli Yanomami in Brasile e Venezuela che sono uno degli ultimi popoli eh tribali eh tuttora esistenti che vive in modo quasi del tutto tradizionale. Noi non viviamo in una foresta la maggior parte perlomeno di noi, non incontriamo delle bestie feroci, non abbiamo bisogno di andare a caccia o di eh coltivare direttamente un campo poiché ehm ci procuriamo il cibo andando a comprarlo attraverso eh eh del denaro che abbiamo guadagnato eh lavorando appunto offrendo dei servizi o facendo qualcosa per qualcuno secondo uno stipendio che riceviamo eccetera. Eh noi stessi siamo molto molto cambiati rispetto a quello che erano i nostri antenati ancestrali o i nostri antenati tribali. Per cui le esigenze dell'essere umano sono assolutamente diverse. Non abbiamo bisogno per esempio se andiamo anche un po' più in là perché quando parliamo di eh popoli tribali parliamo di cacciatori raccoglitori quindi periodo paleolitico e poi c'è stato il periodo neolitico in cui l'uomo ha scoperto l'agricoltura, ha inventato l'agricoltura, ha cominciato ad allevare degli animali mh e quindi non più considerare è stato un processo molto lungo che ci ha portato infine a non considerare più né gli animali né le piante come degli esseri viventi quindi despiritualizzarle e invece a considerarle degli oggetti da sfruttare eh per la carne, per il latte, per la pelle eh per le sementi, per il cibo e fino agli orrori degli odierni degli allevamenti intensivi che appunto mancano assolutamente di rispetto agli animali e mancano di rispetto allo spirito degli animali e per cui producono un sacco di eh di grossi inconvenienti e di guai come malattie eh come tanti altri problemi che viviamo in quest'epoca. Quindi non abbiamo bisogno di eh di andare a caccia, non abbiamo bisogno di prevedere il ciclo della semina e del raccolto attraverso dei riti sciamanici, no? Eh al tempo stesso dobbiamo sicuramente lasciarci alle spalle anche il fatto che quando nella società tradizionale quando una persona si reca dallo sciamano o dall'uomo medicina o dal guaritore tradizionale questo gli dice cosa fare, gli dà una medicina ma fa dei canti, fa dei riti per lui però al tempo stesso questo lo vediamo eh anche nella medicina attuale in cui ci si reca dal medico, il medico dice prenda questa medicina, faccia questo in cui deleghiamo la nostra salute, il nostro benessere a una figura esterna che sia quello dello sciamano o che sia quello del medico o che sia quella di insomma di chi ci dice che cosa fare. L'essere umano ha bisogno di lasciarsi alle spalle questo atto di delega della nostro benessere, della nostra mente, della nostra interiorità a qualcun altro che ci dica cosa fare e ha sicuramente bisogno invece di prendersi la responsabilità della propria salute, del proprio benessere così da co-creare una realtà sana, una realtà in cui ci sia la felicità e la gioia che ci meritiamo tutti di vivere. Un'altra un altro aspetto sicuramente da lasciarsi alle spalle è quello legato alla cosiddetta stregoneria o che poi nelle secoli successivi in Europa è stata denominata magia nera, cioè il fatto di usare il mondo dell'energia per manipolare l'energia stessa a fini egoistici, a fini di controllo di altrui, per esempio in tutti i popoli tradizionali del mondo, soprattutto nella loro così, man mano che questi vengono contattati dalla società moderna in cui cominciano a nascere fenomeni come la prostituzione per esempio che non sono presenti nelle società tribali, si osserva crescere molto forte di riti, di fatture, di incantesimi collegati alla magia rossa, quindi alla conquistare sessualmente un'altra persona, piegare un'altra persona che si desidera sessualmente al proprio volere attraverso dei riti degli incantesimi. Basta che apriamo un qualsiasi, magari non un qualsiasi, però uno dei principali periodici italiani dedicato all'astrologia e vedremo che tutta la seconda parte del periodico è dedicata a cartomanti, pubblicità di indovini, pubblicità di maghi che offrono appunto i loro servigi proprio per manipolare la volontà altrui, per fare fatture, risolvere il malocchio, legature d'amore, queste cose qua, quindi tutto il mondo della stregoneria che è legato molto alla superstizione popolare e che sicuramente ha le sue radici proprio nello sciamanismo antico, non è assolutamente etico, non è qualcosa che può funzionare proprio perché si nutre proprio di energia oscura, di energia manipolatoria e fa del male, così sia a chi lo pratica sia alle persone che lo subiscono. Quindi tutto questo, anche la parola stregone, addirittura ad esempio nei libri di Castaneda il primo libro è stato tradotto in italiano, il titolo A scuola dallo stregone, molte persone pensano invece che lo sciamano o il guaritore pensano allo stregone, insomma sono figure oramai del passato che anche se esistono ancora oggi appunto approfittano della credibilità popolare, della superstizione proprio per manipolare le persone e per attirare ulteriore dolore, ulteriore sofferenza nelle nostre vite. Mi spiace purtroppo che questo tipo di figure siano spesso associate a figure come la mia, che è quella di un formatore, di un terapeuta, che appunto ci fanno una cattivissima pubblicità. Tante persone ad esempio che praticano lo sciamanismo, che credono di praticare lo sciamanismo, chiamano sciamanismo qualcosa che invece è stregoneria e manipolazione della volontà altrui, per cui tutti questi aspetti vanno lasciati nel passato se vogliamo evolvere e invece fare un lavoro di consapevolezza, un lavoro che serva a stare meglio, a essere felici, a migliorare le relazioni all'interno della nostra famiglia, a promuovere la salute, a promuovere il benessere. E qui passiamo alla prima parte della tua domanda Fabio, come mi chiedevi, quali sono invece gli aspetti dello sciamanismo di cui abbiamo bisogno? Sicuramente, come dicevo prima, vorrei concentrarmi su questo, il principale a mio avviso, che molti altri anche documentatori così in questo periodo sottolineano, abbiamo bisogno di favorire la collaborazione e abbiamo invece bisogno di abbandonare la competitività che ci è stata inculcata fin dalla più tenera età. Nel mondo capitalista, il capitalismo 2.0 del ventunesimo secolo, nel neoliberalismo appunto è proprio caratterizzato dalla competizione sfrenata, dallo schiacciare gli altri, da conquistare territori, da una crescita economica che sembra destinata a crescere all'infinito, quando invece sappiamo bene che questo non può funzionare. Mentre invece i popoli tribali, i rappresentanti autentici dei popoli tribali, perché attenzione ci sono un sacco di ciarlatani in giro, un sacco di truffatori o persone che non sono appartenenti a popoli tribali, ma che fanno finta di esserlo così per ragioni commerciali, dicevo, i popoli tribali autentici, chi ha avuto la fortuna come me di vivere con loro nel loro paese, di mangiare con loro, di far parte di una famiglia, di far parte di una comunità, ha potuto vedere quanto la vita sia molto più armoniosa tra di loro, quanto ci sia molto meno delle psicosi, delle tristezze che noi occidentali invece abbiamo, quanto la gente tenda molto più a sorridere, quanto i bambini e le donne vengono trattati con molto più rispetto che nella nostra società, proprio perché un rappresentante autentico di un popolo tribale, fin dalla pionerità respira e mangia col cibo che ingerisce, proprio la consapevolezza di far parte di una rete di relazioni cosmiche, universali, in cui gli animali, ad esempio le piante, i minerali, non sono considerati esseri inferiori da sfruttare e da così soggiogare ai voleri umani, ma salvo poi essere anche noi, esseri umani soggiogati ai voleri di qualcun altro che sta sopra le nostre teste, ma si vedono gli altri esseri viventi, sia quelli visibili che quelli invisibili, come facenti parte di una rete di relazioni di uguale dignità, per esempio sai che io ho una formazione linguistica, per cui mi piace fare esempi in questo campo, nella lingua Lakota, i Lakota sono il popolo nativo americano, per intenderci quello di balla coi lupi, si parla, per parlare, non so, degli animali, si dice la nazione o il popolo delle formiche, il popolo delle aquile, Wambli oiate, oiate significa popolo, Wambli significa aquila, Tatanka oiate, il popolo dei bisonti, Shumanitutanka oiate, il popolo dei lupi, il popolo degli alberi, cioè gli esseri in piedi, per cui già in questo modo di parlare, sappiamo, abbiamo visto l'altra volta come il nostro modo di parlare crei la realtà di cui poi andiamo a fare esperienza, se io considero i lupi, le formiche, non come esseri inferiori o animali, insomma, magari con disprezzo, sentendomi superiore perché io ho un'intelligenza umana, ma li considero come altri popoli, altre nazioni, già il rapporto energetico e sistemico che ho proprio con questi altri esseri viventi cambia in maniera radicale. Un'ultima cosa per rispondere sempre alla tua domanda, Fabio, è questa, che negli ultimi anni, gli ultimi vent'anni, diciamo così, negli ultimi venti e trent'anni e anche negli anni sessanta, a partire dagli anni sessanta in poi, diciamo, del secolo scorso, molte persone cosiddette alternative hanno esplorato varie modalità di vivere, le comuni negli anni sessanta e settanta, gli ecovillaggi che sono nati negli anni ottanta, novanta e negli ultimi tempi, no? E abbiamo, tanti di noi hanno potuto sperimentare, hanno cercato di, appunto, mettere in cantiere dei progetti di vita cosiddetta alternativa al dogma capitalista imperante. E molti di questi progetti, ahimè, sono poi falliti proprio perché vivevamo comunque in una realtà opulenta e facevamo queste cose non tanto per necessità, ma le facevamo proprio perché cercavamo di guardare avanti, cercavamo di fare evolvere le nostre coscienze e però alla fine, anche se queste cose non funzionavano, potevamo sempre tornare alla nostra vita, diciamo, normale. Credo invece in questi ultimi due anni ci hanno mostrato e sempre di più ci mostreranno, a mio avviso, che oramai il fatto di trovare, la necessità di trovare modi alternativi di vivere, di fare rete, come si suol dire soprattutto recentemente, di trovare persone in sintonia con se stessi per creare nuove realtà, nuove possibilità e per svincolarsi, per quanto possibile, dal dogma imperante è ormai una necessità di sopravvivenza. E quindi io credo che questa sia un'occasione proprio perché adesso abbiamo proprio la necessità di stare insieme per sopravvivere, così come i popoli tribali. Per esempio i popoli tribali dell'antichità o ancora chi vive nella foresta devono necessariamente collaborare tra di loro all'interno di una famiglia, una famiglia allargata, all'interno di un clan. Il clan deve collaborare, mettendo a parte i punti di vista divergenti, proprio per poter sopravvivere, perché se non si collabora, se si litiga su chi va a caccia, le modalità di approvvigionamento del cibo, le modalità di difesa del territorio, le modalità di guarigione dei malati, si rischia davvero di morire e quindi il sistema tribù va a morire e non sopravvive. Mentre invece questo non avveniva negli anni scorsi in cui anche se partecipavamo a un ecovillaggio, facevamo un esperimento sociale o comunitario, ma anche se poi fosse fallito avremmo potuto tornare così a vivere tra virgolette normalmente. Mentre invece oramai adesso, soprattutto con le ultime notizie, il cercare modi di vita alternativi, fare rete, fare comunità e trovarsi con persone in sintonia è diventata una necessità indispensabile di sopravvivenza e quindi questo ci costringerà davvero a mettere da parte, spero almeno, le divergenze e le differenze tra le persone e concentrarci appunto non solo sul sopravvivere ma anche sul vivere una vita degna di essere vissuta. E questo forse sì è la ricchezza che ci rimarrà poi di questo periodo, quello di avvicinarci anche come frequenze, frequenze simili a noi. Tornando alla teoria sistemica, credo che ci siano due cose importanti. La prima è che i sistemi si autoregolano, la seconda è che i sistemi tendono a sopravvivere. Puoi spiegarci questi due punti, come essi si esplicano nei sistemi umani, famiglie, comunità, nazioni e civiltà e che cosa ha a che fare tutto questo proprio con l'attualità di una crisi emergenziale che il potere vorrebbe portare all'infinita? Ma sì, io credo che il primo punto che i sistemi, sono due leggi queste che vengono proprio dalla teoria dei sistemi che citavo all'inizio. I sistemi si autoregolano e i sistemi tendono a sopravvivere. Questo, ripeto, può essere applicato sia, io lo osservo perlomeno nei sistemi umani perché per il mio lavoro di formatore e terapeuta lavoro con i sistemi umani ma chiunque si occupi di sistemi a livello scientifico lo osserva nel rispettivo campo di applicazione. Per cui i sistemi si autoregolano nel campo umano vuol dire che i sistemi hanno delle leggi, ci sono delle leggi non scritte che nel mondo delle costellazioni familiari sono state postulate soprattutto da Bert Hellinger, lui le ha chiamate ordini dell'amore. Queste leggi determinano, regolano il funzionamento dei sistemi umani che si autoregolano regolano da loro. La volta scorsa una nostra ascoltatrice ha fatto una domanda rispetto all'irrettimento, abbiamo avuto modo di spiegare molto brevemente che cosa sia un irrettimento e abbiamo fatto un esempio di esclusione dei nostri antenati. Per cui una delle leggi che evinciamo da questa breve descrizione è proprio la legge di appartenenza. Per esempio la legge di appartenenza, che è uno degli ordini dell'amore, afferma che quando si nasce all'interno di un sistema umano, quindi per diritto di nascita, si appartiene al sistema umano e si appartiene fino alla propria morte e anche dopo la morte, perché infatti nel ricordo dei discendenti c'è un nonno, c'è uno zio che è vissuto in una tale epoca e che ha fatto parte e che rimane a far parte del sistema come ricordo. Per cui quando per esempio un padre dice a un figlio durante un diverbio basta tu non sei più mio figlio o un figlio in conflitto con i genitori se ne va sbattendo la porta dicendo voi non siete più i miei genitori in realtà stanno dicendo qualcosa di impossibile, nel senso che si appartiene al sistema familiare di appartenenza, di nascita fino alla propria morte. Questa può sembrare una banalità ma in realtà ha degli effetti molto molto potenti sulle vite delle persone. Ci sono altri ordini dell'amore e questo dell'appartenenza è forse il più importante, infatti esprime uno dei bisogni primari dell'essere umano è proprio quello di appartenere, noi siamo animali sociali, appartenere a una comunità, appartenere a una famiglia, appartenere a un clan, appartenere a un gruppo di persone che la pensano che sono in sintonia tra di loro, citavamo poc'anzi l'esempio. Per cui si osserva dalla teoria dei sistemi di von Bertlan fin poi si è osservato che i sistemi si autoregolano, cioè quando viene commessa una violazione sistemica, per esempio viene violata una di queste leggi, la legge di appartenenza, e un membro del sistema familiare viene escluso dagli altri per ragioni sociali, religiose, morali, politiche, ad esempio sono due convenzioni politiche differenti, oppure questo membro del sistema si macchia di una crimine religioso, per cui l'esempio che faccio sempre è una donna che cent'anni fa aveva un figlio da un amante fuori dal matrimonio, veniva esclusa, ci si vergognava di lei, veniva diseredata dai suoi genitori e quindi veniva esclusa, veniva mandata via, si commette in questo caso una violazione sistemica, cioè una violazione a una legge sistemica, che è questo ordine dell'amore di appartenenza. E quindi cosa si osserva nel mondo delle costellazioni? Nel mondo sistemico si osserva che qualcuno dei discendenti dello stesso sistema si occupa a suo malgrado, nelle generazioni successive, di riparare quella violazione sistemica venendo irretito, quindi vivendo emozioni, pensieri e parti di destino della persona che è stata esclusa. E al tempo stesso anche vivendo parti di destino delle persone che l'hanno esclusa, quindi i suoi genitori, di quella donna nell'esempio. Proprio perché ci sono questi meccanismi che si chiamano di fedeltà invisibile, noi dobbiamo essere fedeli ai nostri genitori. Quindi se siamo fedeli in modo consapevole questo ci dà forza per la nostra vita. Se invece siamo, fedeli in modo inconsapevole, per esempio, ripetiamo delle loro abitudini, come ad esempio l'abitudine di fumare, o di bere alcol in modo eccessivo, o determinati schemi di pensiero che ereditiamo inconsapevolmente dai nostri genitori. Quindi i sistemi, quando avviene una violazione sistemica, abbiamo fatto l'esempio della legge di appartenenza, potremmo fare molti altri esempi, tendono a autoregolarsi, nel senso che viene violata una di queste leggi che regolano il sistema, che garantiscono l'armonia, il benessere per i membri del sistema, le generazioni successive si occupano inconsapevolmente di sanare questa violazione e al tempo stesso utilizzano, il sistema utilizza, perché il sistema ha una sua coscienza, che si esplica nelle costellazioni attraverso il campo morfico o il campo cosciente che si forma in sala durante la rappresentazione, dicevo il sistema si occupa di sanare quella violazione e quindi si autoregola, proprio per garantire il rispetto delle leggi non scritte, che sono appunto gli ordini dell'amore nel mondo delle costellazioni o le leggi sistemiche, nelle sue altre applicazioni della teoria sistemica. L'altra cosa che mi hai chiesto riguarda il fatto che i sistemi tendono a sopravvivere. Sì, tendono a sopravvivere, questo si collega a quello che stavo dicendo poc'anzi, cioè un sistema umano, una famiglia, un clan, fa di tutto per sopravvivere, quindi evolve nel tempo, i suoi membri via via cambiano proprio per adattarsi alle mutate situazioni ambientali, al tempo che si vive, alle situazioni che via via il sistema incontra sulla sua strada. Questo lo vediamo ad esempio a livello antropologico, se osserviamo, io ho segnato per anni in una scuola di psicoterapia proprio antropologia comparata e facevo proprio notare agli studenti in quelle sedi come ad esempio un popolo tribale sia molto pragmatico, molto più di quello che noi pensiamo, infatti questo si osserva in particolare quando i popoli tribali dal loro status di vita tradizionale nella foresta, nel deserto e così via, vengono via via in contatto con la tecnologia del mondo moderno, con il cibi, il modo di vestire, tutte le varie aspetti della cultura occidentale che man mano invadono il loro territorio e loro si adattano nel tempo in maniera anche molto rapida, tante volte proprio per sopravvivere e assumono diversi aspetti della cultura che sta entrando proprio allo scopo di sopravvivere, cioè gli stessi popoli tribali non è che rimangono uguali nel tempo ma si evolvono e hanno dovuto in molti casi fare un salto di migliaia di anni in pochissimo tempo, pensiamo ad esempio agli aborigeni australiani che vivevano di fatto all'età della pietra, all'età del paleolitico quando sono cominciati ad arrivare gli inglesi e in uno spazio di 200 anni oramai si vedono appunto aborigeni australiani che usano il computer, usano il cellulare, non dobbiamo pensare che siano dei primitivi o come dei nobili selvaggi ma sono delle persone, degli individui come noi che usano la tecnologia, quindi i sistemi tendono a autoregolarsi e tendono a sopravvivere e acquisire sempre nuove abilità, nuove capacità proprio allo scopo di sopravvivere perché la vita, è molto importante comprendere questo, la vita vuole andare avanti, quindi la vita è come un fiume che attraverso i vari individui, le varie forme sempre va avanti, sempre sopravvive e questo non c'è bisogno di mostrarlo dato che sta avvenendo da milioni e milioni di anni, noi stessi non saremmo qui se la vita non volesse andare avanti e non tendesse a sopravvivere. Il primo punto è il fatto che i sistemi si autoregolano, ci mostra la fallacia e la malafede di quanto è stato fatto nella gestione della crisi attuale a mio avviso, proprio perché è stato scelto consapevolmente da chi ha deciso queste cose, è stato scelto un interventismo esagerato andando a inoculare durante le fasi più forti della cosiddetta pandemia e quindi allevando, diventando proprio allevatori di varianti, come è stato una citazione di Enzo Pennetta, un autore che amo ogni tanto citare, che ha evidenziato proprio il fatto che il fatto di inoculare le persone durante una pandemia mirasse in effetti poi alla fine, forse inconsapevolmente ma molto più probabilmente in modo consapevole, a creare sempre nuove varianti e quindi a protrarre all'infinito o il più possibile una situazione che invece se lasciata alla natura, se lasciata alla madre terra, si sarebbe già risolta da molto tempo e quindi questo è proprio, però in realtà, guardandolo da un punto di vista ancora più ampio, anche storico e filosofico, è proprio uno dei difetti madornali dell'essere umano, del modo di pensare dell'essere umano moderno occidentale, quello di poter manipolare la natura, poter intervenire e prendere le cose, gli altri esseri viventi, trattarli come oggetti e farne quello che noi pensiamo sia meglio fare. Mi viene un esempio, ho visto recentemente un filmato che parlava di un grande lago della ex Unione Sovietica che è stato letteralmente prosciugato in epoca sovietica proprio per delle scelte efferate, delle scelte madornali, di errori madornali che sono stati fatti a livello agricolo. Quindi l'essere umano tende costantemente negli ultimi 200 anni a intervenire, a mettere il becco in questioni molto più grandi di lui, certo questo fa parte un po' della nostra evoluzione, ma al tempo stesso dovremmo perlomeno imparare dai nostri errori. Mentre invece la natura ha sempre ragione, proprio perché la natura, se vogliamo chiamarla natura, o preferisco dire la madre terra, va avanti da miliardi di anni, si autoregola, essendo essa stessa un sistema, tende a sopravvivere e noi non siamo degli enti esterni alla natura, ma ne facciamo parte, come sanno bene i popoli tribali. E per cui facendone parte dovremmo essere coscienti del nostro posto, non di, così, deus ex machina o di dittatori della natura, come ad esempio nella Bibbia c'è scritto, l'essere umano avrà il possesso degli altri esseri viventi, sarà il dominatore. In realtà vediamo che questo tipo di approccio sbagliato, a mio avviso, viene da molto lontano, proprio dalla Bibbia, dalle religioni monoteiste, patriarcali, ma dovremmo invece adottare un sistema molto più reale, una visione più reale che è quella appunto cosmica dei popoli tribali, prendendo coscienza di quello che è il nostro posto di esseri umani, che non è il posto di dominatori dell'universo, ma è il posto di uno dei tanti modi in cui la vita si esprime sul pianeta Terra. Quindi ci vorrebbe un po' più di umiltà da parte nostra, se vogliamo sopravvivere e se vogliamo vivere in modo felice e sano. E ora arriviamo alla legge, la legge di attrazione, la famosissima legge di attrazione, che è un concetto spesso nebuloso, che molti non comprendono a fondo, altri considerano semplicemente la classica leggenda metropolitana della New Age, che cosa puoi dirci? Esiste la legge di attrazione? Funziona? E se funziona, come funziona? Ma guarda, questo è un altro argomento molto dibattuto, vorrei dire una cosa soltanto in questo senso, proprio per rispondere alla tua domanda. La legge di attrazione è semplicemente l'osservare che esiste una risonanza in natura e dipende da che punto di vista, da che stato di coscienza ci approcciamo a questa legge, a questo fenomeno e a che scopo lo facciamo. Quindi hanno ragione coloro che, osservando i motivatori americani, gente che ha scritto dei libri tipo The Secret o altri libri best seller, che vengono tutti dagli Stati Uniti, hanno ragione tante volte a definire delle pagliacciate New Age, proprio perché sono quei libri, quegli approcci che dicono mezze verità o una parte della verità e cercano di sfruttarla a vantaggio di vendere libri, vendere seminari, motivare professionisti a vendere meglio, a sfruttare meglio gli altri, infatti vengono utilizzate questo tipo di approcci proprio dai... vediamo questi motivatori con 50 denti bianchissimi, sempre sorridenti, sempre sani, sempre positivi, che vendono a caro prezzo seminari, soprattutto in ambito le multinazionali, proprio per insegnare i professionisti a fregare meglio gli altri, a sfruttare sempre di più la natura, a distruggere la vita e via di questo passo. E si prendono in realtà come spunto dalla legge di attrazione, e quindi in quel modo lì la legge di attrazione non funziona. Non funziona perché viene approcciata da uno stato di coscienza interiore, da un io che considera soltanto la realtà materiale, che cerca di sfruttare determinate leggi a vantaggio dell'ego della persona. Cioè io cosa voglio fare? Perché nello sciamanismo dobbiamo capire che è molto importante l'intento con cui si fanno le cose. Tanto è vero che alcuni hanno definito lo sciamanismo come l'arte di trasmettere volontà, una trasmissione di volontà lo sciamanismo. Per cui l'energia in realtà, non solo lo sciamanismo, funziona in questa maniera, trasmettere volontà. Per cui se io mi approccio a, se io cerco di utilizzare una legge che è la legge di risonanza per ottenere, di vendere di più un prodotto o di sfruttare al meglio i miei simili attraverso una catena di fast food per esempio, lo sto facendo con un intento egoico, lo sto facendo con un intento che non è etico e per cui questo intento è destinato a fallire e quindi in quel caso la legge di attrazione così come viene così promulgata nei best seller internazionali del capitalismo tra virgolette illuminato non funziona. La legge di attrazione invece diciamo tutta o un pochettino più di verità e non so tanto la mezza verità alla The Secret la legge di attrazione si basa sulla risonanza che è un fenomeno fisico riconosciuto neanche tanto di moda fisica quantistica dalla fisica. Spieghiamolo in maniera molto banale. Se io prendo un diapason che è stato fabbricato per risuonare a 52 Hz e prendo nell'altra mano un altro diapason che è stato fabbricato per risuonare a 30 Hz per cuoto con un martelletto il primo diapason l'altro diapason resta fermo non vibra proprio perché sono stati fabbricati per risuonare a due frequenze diverse. Se invece io prendo due diapason che sono uguali che sono stati fabbricati per risuonare a 70 Hz per esempio entrambi e li tengo uno in una mano uno nell'altro oppure su un tavolo separati senza che si tocchino per cuoto il primo diapason il secondo diapason comincerà a vibrare senza essere stato toccato proprio perché nell'aria si propagano le frequenze vibratorie della percussione del primo diapason quindi per risonanza i due diapason vibrano all'unisono alla medesima frequenza lo stesso fenomeno funziona a livello energetico non soltanto per quanto riguarda la frequenza sonora ma anche la frequenza emozionale la frequenza dei pensieri la frequenza eterica la frequenza astrale la frequenza di anima tanto è vero che per esempio quando guardiamo un film o uno spettacolo teatrale il personaggio dice delle cose con una certa carica emotiva anche noi ci commuoviamo perché entriamo in risonanza con quella vibrazione di quella determinata emozione che è anche dentro di noi perché magari viene dal passato dalla nostra esperienza passata potremmo parlare per ore di questo questa è la legge di risonanza per cui funziona la legge di attrazione se io evolvo da un io egoico e mi apro sempre di più alla mia essenza che è la mia essenza di fusione nello stadio più elevato di fusione totale col cosmo di fusione con l'universo quindi perdo via via l'identificazione della mia coscienza con l'ego quindi le parti di me che vuole sfruttare distruggere conquistare e sempre di più mi apro alla visione cosmica di me e quindi alla mia parte universale immortale al mio sé S maiuscola al mio spirito a quel punto lì non mi interesserà più sfruttare quella la legge di disonanza per vendere di più per sfruttare gli altri ma semplicemente risuono con il cosmo e mi godo questa estasi di nuovo lo sciamanismo spesso messo in relazione con l'estasi divina con l'illuminazione tra l'altro è uno dei il titolo di uno dei libri più famosi sullo sciamanismo lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi di Mircea Eliade il grande antropologo del secolo scorso per cui una volta che io mi apro sempre di più a quello che sono evolvo e mi identifico la mia coscienza piccola egoica umana si identifica sempre di più con ciò che noi davvero siamo cioè il nostro spirito il nostro sé non mi interessa più usare la legge di attrazione per attrarre a me denaro abbondanza ricchezza l'amore di altre persone e allora comincerà davvero a funzionare proprio perché non mi interessa più questo sembra un paradosso ma nel mondo della spiritualità sono proprio i paradossi quelli che hanno efficacia mentre invece se io cerco di applicare la legge di risonanza e quindi la legge di attrazione ai piccoli intenti ai piccoli deliri dei capi di una multinazionale e cerco di sfruttare gli altri per il mio tornaconto personale e il focus della mia attenzione lì nel 99% dei casi questo non funziona funziona molto molto limitatamente e porterà altra sofferenza altro dolore prima o poi per cui credo di avere spiegato abbastanza bene cosa intendevo dire rispetto alla legge di attrazione allora vediamo se c'è qualche spunto in chiusura di anche di questo ciclo intanto tornando all'inizio Cara diceva dobbiamo ignorarli vivere nell'amore e nella compassione questo li sta distruggendo con le loro stesse mani sei d'accordo? sono molto d'accordo assolutamente dobbiamo portare l'attenzione sul nostro cuore su quello che noi vogliamo fare perché fin quando diciamo no a questo no a quello stiamo dando attenzione a quello che ci propinano loro invece dobbiamo proprio fregarcene come dice giustamente la nostra ascoltatrice e dedicare la nostra attenzione nel nostro tempo le nostre energie a come vogliamo essere a come vogliamo vivere al mondo che vogliamo costruire e in questo modo loro sono assolutamente fregati perché non sono proprio in grado ogni tanto ci arriva prima di proseguire ci scrive qualcuno e ci dice perché sai che si sostiene no che facendo il famoso puntini puntini si ero oltre a problemi no di natura possibili problemi di natura fisica c'è chi sostiene anche che si possa creare anche una problematica c'è chi parla di scollegamento no tra anime e corpo problemi diciamo di tipo eterico eccetera intanto non so se tu diciamo pensi che possa esserci questo tipo di rischio e e se ovviamente la domanda è chi proprio dice io sono obbligato lo devo fare per forza perché ognuno ha i suoi motivi e si può fare qualcosa sotto questo punto di vista diciamo per limitare i danni ma guarda le persone ti posso rispondere dalla mia esperienza professionale le persone con cui lavoro appartengono a entrambe le categorie ci sono persone che sono state in maniera diversa costrette altre che l'hanno fatto volontariamente altre che non ne vogliono sapere e io mi devo relazionare con tutte loro proprio perché è un sistema come dicevo prima di persone non posso escludere nessuno devo fare spazio nel mio cuore nella mia attività a tutti quanti è vero assolutamente quello che dici è che ho potuto osservare che quel tipo di intervento crea va nella direzione di scollegare dal proprio cuore va nella direzione di scollegare dall'anima cioè dal sentire del cuore queste non sono teorie cioè sono cose che osservabili ovviamente non in modo come magari soddisferebbe un televirologo di turno ma applicando appunto agli strumenti della mia professione e sono certo che anzi lo sento condividere da colleghi che fanno un lavoro simile al mio mi riportano le stesse cose un messaggio per coloro che hanno fatto quel tipo di scelta un messaggio positivo è che non devono sentirsi condannati ma soprattutto chi fa un lavoro su di sé chi è sul cammino di consapevolezza deve sapere che appunto ci sono gli strumenti quindi nutrire l'amore dentro di sé a livello pratico fare pratiche spirituali impegnarsi nella vita quotidiana nutrendo l'amore fa sì che il collegamento questo tipo quel tipo di intervento è un tipo di intervento che va a attaccare la connessione la connessione spirituale soprattutto sul cuore perché attraverso il cuore che vi è una vera connessione spirituale questo era stato predetto da Steiner Rudolf Steiner e non è un caso infatti che poi ci siano molti molti più infarti ma loro improvvisi miocarditi pericarditi proprio perché è il cuore che viene attaccato in quanto portale principale di collegamento con lo spirito con l'anima ma non è nulla di come dire non va vissuto come una condanna ci sono gli strumenti per schermare da quell'attacco e anzi trasformare quell'esperienza ancor più in un'esperienza spirituale cioè non bisogna nessuno deve pensare di ormai è finita insomma si può sempre rimediare in una certa misura a patto che si sia disposti a lavorare su di sé un lavoro comunque difficile duro è molto più che prendere una laurea fare un lavoro spirituale autentico questo è un po' il messaggio che vorrei dare a tutti insomma e inoltre questo va anche nella direzione di evitare di suddividere le persone in categorie di discriminarle perché dobbiamo stare attenti a non discriminare né l'una né l'altra categoria ma fare spazio nel nostro cuore per entrambe qualunque sia la nostra scelta e proprio questa è una delle armi vincenti contro chi invece vuole dividerci sempre d'ora poi chiede anzi cara chiedeva tra due settimane andrò a fare la mia prima esperienza a un seminario sulle costellazioni posso chiedere un consiglio per potermi preparare a questo evento ma sicuramente si te stessa vivi le cose così come vengono attraverso il sentire del corpo e poi affidati all'esperienza stessa che andrai a fare dipende moltissimo poi dall'approccio che ha chi conduce questo seminario bisogna anche fare attenzione che ci sono anche tante persone che fanno questo tipo di lavoro in maniera essendo impreparati ma spero proprio che invece non sia questo il caso quindi semplicemente viviti l'esperienza e sarai tu stessa a scoprire cose nuove dentro di te il rapporto con le loro parti nascoste ombra è più fluido nei nativi tribali la tendenza a rifuggire queste parti è propria dell'essere umano o della nostra epoca in particolare ma nessuno di noi a parte i pochissimi masochisti piace provare dolore nessuno di noi piace trovarsi in difficoltà per cui in un certo senso è la mente umana non l'essere umana ma la mente umana a rifuggire dalle parti oscure o comunque da rifuggire dalle esperienze scomode a questa tendenza in India dicono la mente va verso il basso come l'acqua invece lo spirito va verso l'alto come il fuoco nei popoli tribali d'altra parte c'è molto più dimestichezza con l'affrontare le parti oscure ma lo si vede non soltanto nella spiritualità nei riti dei popoli tribali che proprio affrontano i demoni affrontano i demoni interiori affrontano le nostre parti oscure ma si vede anche nel modo in cui le persone si relazionano tra di loro c'è molto più silenzio c'è molto più ascolto ogni volta che vado a trovare dei miei parenti nativi perché sono stato adottato da una famiglia negli anni insomma lo trovo molte volte mi fa sempre molto piacere quando entro in casa nella loro casa ci sediamo al tavolo della cucina a bere un caffè eccetera si sente proprio questo silenzio una persona parla gli altri ascoltano dopo che ha parlato c'è un silenzio di ascolto e poi parla un'altra persona invece noi siamo soprattutto noi italiani siamo abituati a parlarci addosso a parlarci sopra l'uno con l'altro no? questo ascolto molto profondo è indice proprio di sapere ascoltarsi e sapere ascoltare gli altri e quindi sapere anche in qualche modo osservare la realtà compresa le parti luminose le parti oscure e quindi le parti dentro di noi scusa ma perché i milionari dovrebbero essere tutti dalla parte del male nessuno con una spiritualità elevata e dalla parte del bene io non ho detto che i milionari sono tutti dalla parte del male ci sono sicuramente delle elite che stanno decidendo facendo tutto questo mi sembra evidente non è che uno sei milionario è un cattivo non c'è nulla di sbagliato avere tanti soldi a patto che quei soldi siano stati guadagnati in modo legittimo e non fregando o facendo male a altre persone assolutamente allora direi con questo siamo arrivati alla fine io Marco ti ringrazio di questo ciclo di trasmissioni che ci hai voluto regalare preziose ricche di spunti da riascoltare sicuramente poi anche con più calma e non so se vuoi dire qualcosa che ti riguarda magari guarda Fabio sono io a ringraziare te di questa bellissima opportunità e anche fririsveglio che ci ha permesso di soltanto dire delle cose che spero siano state utili a chi ci ha ascoltati ma anche di rispondere alle tante domande degli ascoltatori che appunto invito a condividere questi video a commentarli a mandarci altre domande e spero di essere stato d'aiuto sia alle persone che sono su un cammino di consapevolezza magari da tempo e sia soprattutto a chi sull'onda di quello che sta avvenendo nel mondo sta cercando delle risposte sta cercando dei nuovi modi per approcciare la realtà e trovare delle soluzioni e spero che siano soluzioni che troveremo tutti quanti insieme anzi ne sono convinto anche io grazie davvero a Marco e buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito buona serata grazie a tutti